22.000 volontari, 95 comitati, 145.000 giornate di lavoro e 15.000 persone assistite ogni giorno. Sono solo alcuni dei numeri che raccontano l'attività della Croce Rossa italiana in Piemonte, in un anno che l'ha vista in prima linea nella lotta al Covid senza mai dimenticare le emergenze della vita quotidiana. Durante la pandemia i volontari hanno collaborato con il sistema sanitario regionale con servizi di trasporto e di dimissioni dagli ospedali dei pazienti Covid e hanno partecipato all'allestimento e alla gestione dell'ospedale temporaneo del Valentino. I comitati locali hanno dato assistenza e supporto a famiglie in difficoltà, con l'ascolto e con la consegna di beni di prima necessità, contrastando così l'emergenza sociale causata dalla pandemia. Anche per questo l'8 maggio, giornata mondiale della Croce Rossa, oltre a dare a tutti il modo per dire grazie ai tanti volontari, diventa l'occasione per invitare il comitato regionale a far parte degli stati generali per la prevenzione del benessere. Abbiamo necessità che Croce Rossa italiana aderisca agli stati generali del benessere della salute, del Consiglio regionale, per fare in modo tale che le 20.000 sentinelle, come sono state definite dal Presidente Ferrero, portino le istanze del territorio del volontariato piemontese al Consiglio regionale, per dare maggior forza anche alle associazioni di volontariato verso i piemontesi. Il Consiglio regionale ha voluto poi celebrare la Croce Rossa del Piemonte con un video che illustra, immagine dopo immagine, i sette principi fondamentali su cui si basa l'operato di Croce Rossa e con una mostra fotografica allestita all'URP dal titolo Inarrestabili da sempre, visitabile fino al 16 maggio. E in concomitanza con l'8 maggio ripartono i corsi per diventare volontari. Informazioni e iscrizioni sul portale gaia.cri.it, il percorso seguito da Ginevra Scudiero, da due anni giovane volontaria ed insignita del titolo di Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella. Provare a mettersi dall'altra parte significa, secondo me, provare a mettersi in gioco, provare a dare tutto quello che si ha agli altri e scoprire quali sono le sensazioni che si provano. Le sensazioni che ho provato io sono meravigliose, non penso di potermene mai più staccare in tutta la mia vita.